Fratelli e narratori, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buonasera a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale, buon venerdì 5 aprile, buon inizio di weekend per chi l'ha già cominciato. Allora, qualche argomentino a livello di squadra, a livello societario, perché ovviamente a livello di proprietà, ovviamente oggi altre notizie, ma ne parleremo dopo, io la prima cosa che mi sento di fare oggi è fare gli auguri al mister, mister Inzaghi, che oggi compie gli anni il mister, siamo quasi coetani il mister, e quindi insomma, questo upgrade che io chiedo dal secondo anno, perché dopo il primo anno io d'estate dicevo, parliamoci chiaro, sei anche bravo come narratore, ma devi fare un cazzo di step, un upgrade, ti devi un attimino togliere alcune cose, tipo il cartellino, queste cose, sostituzioni, quelle cose lì, e comunque l'upgrade qual era? Era fare la cavalcata lunga, perché quello, perché poi le coppie le aveva vinte anche alla Lazio, contro la Juve, la Lazio di Inzaghi era stata l'unica a battere la Juve in quegli anni lì dove dominava la Juve, quindi, sei vicino mister, sei vicino, porta la nave, porta la nave dove devi portarla, insomma, e quell'upgrade sarà arrivato, che poi vedi, paradossale, comunque stiamo parlando di un mister che l'anno scorso, secondo anno, ha fatto una finale di Champions, cioè, però, proprio perché in Coppa è tremendo, è qualcosa di pazzesco, il mister l'ha dimostrato, in campionato, anche con la Lazio, se ci ricordiamo, fece quella cavalcata lì pre-Covid, però dopo si è spenta, è uguale l'Inter, i primi due anni, vuoi o non vuoi, non c'era quella continuità, quindi, questo è un grandissimo step, mister, ma ti sarà riconosciuto in toto e appieno quando ci sarà la matematica, quindi, auguroni a mister Inzaghi, l'unico mister che è, boh, 300, no, 330 giorni all'anno e senza voce, perché un mese, un mese di vacanza, suppongo che gli torna un po' la voce, ecco, quindi, buon compleanno mister, e mi raccomando. Quindi, a proposito di mister Inzaghi e dell'Inter e del gioco dell'Inter, ragazzi, io ho rivisto la partita Inter-Empoli, perché dallo stadio un conto, a casa un altro, ma soprattutto sta girando anche un bellissimo video, che ti fa vedere proprio il dettaglio da un'inquadratura bella, io me ne ero già accorto, rivedendo il secondo gol, perché dallo stadio non tanto, perché poi io ero dalla parte opposta, è vero che hanno segnato sotto di noi, ma l'azione, come cominciata dal primo verde, dove eravamo noi, non si vedeva molto bene. L'azione del secondo gol, che chiude la pratica Empoli, è da far vedere alle scuole calcio, perché è da far vedere alle scuole calcio, perché? Perché in un momento in cui siamo ancora, la partita è in bilico, così era l'83esimo, ha segnato Sainz, e l'Empoli in quel momento stava pressando di brutto, si vede benissimo in questo video che sta girando, quindi abbiamo un difendente, adesso non mi ricordo chi era, che fa un retropassaggio, e lui era pressato, fa un retropassaggio ad Audero, e intanto quello lì va verso Audero, Audero si sposta la palla verso sinistra e passa subito la palla, quindi un passaggio di prima, doppio tocco, no vi spiego, perché con 15 tocchi, contando che Barrella ne hanno fatti 4, abbiamo fatto gol, quindi Audero allarga a sinistra, di prima chi era a sinistra allarga ancora, poi viene data la, no aspetta, la palla a Sánchez, il Nino Sánchez, che va incontro al pallone, ok, e riesce a passarla, mi sembra Michi Michi, che con due tocchi poi la dà in mezzo a Barrella, ma il Nino Sánchez partecipa già a quell'azione, e dopo è un fulmine di guerra rialzarsi e ad essere in mezzo all'aria, quando poi Denzel e Barrella, Nicolò soprattutto con i tempi giusti, gli dà quel pallone, allora, perché 4 tocchi li ha fatti Nicolò, se no erano 8-9 tocchi, 9 tocchi è una cosa del genere, più o meno, indicativamente, azione da manuale del calcio, in una fase dove ti pressavano, perché loro volevano andare a pareggiare la partita, tu li hai portati da una parte all'altra, quindi è iniziata da destra, Audero, siamo andati a sinistra, Sánchez, ritorno indietro, la palla in mezzo, però verso destra, centro-destra a Nicolò, Dunfriss, Denzel va, tac, ancora a destra, poi in mezzo a chiudere l'azione. Riguardatela, cercate quel video, questa è l'Inter di Inzaghi, che se ne dica, con tutti i detrattori, e tutto quello che abbiamo sentito e che sentiamo quotidianamente, e quindi mi piaceva sottolineare questa cosa. Allora, Udinese Inter, ancora di lunedì, quindi sapremo già i risultati delle altre, ho letto che il Briscola ha avuto un affaticamento, l'aduttore, credo, il Briscola si fa leggero affaticamento, no, al flessore, indubbio per Udine, al flessore, quindi, vedete che poi, tra l'altro il Briscola, l'ho detto anche nel mio video, il migliore assieme a Nicolò, assieme a Dimash, comunque il gruppo italiano il migliore, a mio modo di vedere, quindi, peccato, peccato, perché ci servono tutti, meno male che è ritornato Carlos Augusto, meno male che rientra De Vrij, quindi, volendo, a Cerbi, può giocare anche al posto del Briscola, ma in questo caso, visto che De Vrij è rientrante, può giocare a Cerbono, e può giocare benissimo Carlos Augusto, che lo fa molto bene, mi piace molto la fascia sinistra, con Carlos Augusto e Dimash, quindi, però, che palle, questi infortuni, adesso, ripeto, che abbiamo, fortunatamente, buone notizie all'infermeria, questa cosa non ci voleva, speriamo che sia solo, solo per Udine, e poi ci possa essere, poi, non mi ricordo, scrivetemelo voi, c'è da stare attenti anche a dei diffidati, avevo letto sta cosa, in vista del derby, più che altro, quindi, bisogna stare attenti anche a questa roba, per averli tutti poi per il derby, ma no perché il derby, chiariamo anche questa cosa, che ieri mi sono indicato di dirla, per me il derby è il derby, ok, il derby va vinto, il derby non si gioca, il derby si vince, e la vedo così, quindi io voglio la mia forma, poi, lo scudetto, quando arriverà, arriverà, non me ne frega un cazzo, è quello un discorso, però è chiaro che il derby è il derby, cioè il derby rimane, il derby rimane, quindi, scrivetemi voi che siete più ferrati, chi sono i diffidati, così facciamo due calcoli, e vediamo un attimino, se qualcuno si deve fare ammonire a Udine, in qualche modo, poi, vabbè di questo l'abbiamo detto, c'è tempo ragazzi, ahimè, qui si gioca ogni lunedì, tranne domenica che sarà col Cagliari, il derby abbiamo detto lunedì, grande figata, ma qui lo dico soprattutto per i tifosi rossoneri, tifosi rossoneri, perché gioca in casa il Milan, quindi la curva a nord, la curva a nord, per l'amor di Dio, c'è gente che viene da fuori, però fondamentalmente tantissimi sono di Milano, ma quando lo stadio è pieno, è tuo, cioè, lì è una bella inculata, perché aveva fatto biglietti aerei, biglietti dei treni, e questo lo dico per i Milan Club, l'avevo già detto, questa cosa, quindi, veramente una cazzata, di lunedì sera un derby, discorso proprietà ragazzi, discorso proprietà, perché giustamente, giustamente, dopo gli attacchi, gli attacchi ieri di tutto sport, che diceva che Zanga non si presenta più, che bisogna vendere assolutamente due big, perché, che erano quelli, che dicevano a novembre, che Invescorperò, diciamo ai dettagli, torna la ribalta alla Gaza, sfanculando quello che ha detto, per dieci giorni, il Corriere dello Sport di Zacquaroni, quindi, la Gaza, dopo un mese, che l'aveva detta sta cosa, l'aveva scritta, ritorna alla ribalta, ritorna, e quindi, oggi se ne esce, non solo la Gaza, ma anche, il Sole 24 Ore, con Carlo Festa, arriva a dire sta cosa qui, che O3 darà più tempo, a Zanga, per trovare, comunque, un eventuale compratore, c'è scritto, oppure, trovare un investitore, e comunque, gli sta piacendo questa cosa, che sta risanando il club, quindi, e, ovviamente, poi inizia a vedere, Zanga, allora ce la fa, siamo a un passo, tutte queste cose qui, però anche lì, non è che la Gaza, a me è simpatico, a me nessuno di questi è simpatico, soprattutto quegli altri due, e quegli altri due, contro di noi, ma la Gaza, non è che io, mi rimangio quella, è quella che diceva, due anni fa, Bremere e Dybala, era fatta, soprattutto Dybala, io, io ho ancora una prima pagina, di una gazzetta, dove c'era il tridente, vi ricordate, Lautaro, Lukaku Dybala, il tridente, e cazzo, non le ho fatte io, quelle prime pagine, quindi, questa è la dimostrazione, che si brancola nel buio, che la verità, la stanno soltanto Zang, il padre, e pochi altri eletti, che stiamo sentendo, minchiate, non so da quanto tempo, e più ci avviciniamo, ma questo ve lo diceva a novembre, vedrete che sarà così, e più ci avviciniamo, ogni giorno, boom, 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 poi ci sono quelli che si deprimono, quelli che si esaltano, perché a seconda, se uno è Zang out, uno è pro Zang, tutte queste minchiate, l'unica cosa, certa, che ad oggi, c'è ancora Zang, e qua lo si dice, da quanto tempo, da quanto tempo, quindi, cioè, fatevene una cazzo di ragione, per adesso, poi si vedrà, quello è, cioè, godetevi il momento della squadra, vedo gente che si deprime, gente che si esalta, in base a queste cose qui, non considerando, che saremmo, in corsa, lì, lì, per vincere, il ventesimo scudetto, della storia, boom, quindi, eh, uno dice una cosa, uno dice un'altra, quello ne dice un, e quello ne dice un'altra, senti Marotta, e una volta dice, sono cose che sono sopra le nostre teste, non lo so, spero che rimanga, perché lo disse Marotta, adesso l'ultima uscita di Marotta, è stata, penso che ce la possa fare, eh, dov'è la verità? La verità, non si sa ragazzi, è inutile che, uno si fa il film, uno si fa il trip, quella è la situazione attualmente, dice, eh, ma se rimane Zang, non è che se arriva il proprietario nuovo, eh, fate i mercati faraonici, perché sto leggendo delle minchiate, delle cose, ma questa è gente che, ripeto, è gente che, ce l'ha col cinese a prescindere, quindi, eh, la vive così, però, vorrei far capire che, non è che si arriva, lo sceicco, o l'americano Jay Hard, col cappellone, da Dallas, ci sono dei paletti, delle cose da rispettare, e minchia, non vi entra in testa, quindi, manca sempre meno, manca sempre meno, e si saprà prima, sicuramente, della scadenza del 20 maggio, però, la situazione è questa, quindi, abbiamo visto, parlo solo dell'ultimo periodo, il Corriere dello Sport, per giorni, a martellare, era finita, zanga era finita, gli zangatano, io sono curioso, ecco, una cosa, vorrei dire, un domani, no, quando ci sarà la matematica, aritmetica, questa gente, festeggerà lo scudetto, o andrà sotto la sede, con coerenza, a dire comunque, zang, vattene, questa è la mia domanda, condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza inter, attivate la campanella, ragazzi, fate passaparola, e basta, ci aggiorniamo domani, perché qui, ogni giorno, ormai ne esce una, domani, domani vedremo, poi, ripeto, è ritornato alla ribalta, quell'altro, quell'altro lì, dai, quello, quello non può circolare, quello veramente, non può circolare, zilliacus, perché, cioè, farsi pubblicità, in quel modo, nessuno di noi, cioè, sfido chiunque, chi cazzo lo conosceva, questo qua, cioè, veramente, di voi, cosa siete, 8, 9000, 9000, e qualcosa, quasi 10.000, sfido chiunque di voi, magari uno sì, ma chi cazzo era, questo qua, quindi, tornerà alla ribalta pure lui, perché adesso mancano, vero pochi giorni, se ogni giorno ne esce una, cosa dittorna, sicuramente ancora lui, ho sentito che, aveva in mente anche una cosa, per la curva, ha citato la curva a nord, addirittura, ma questo sta impicciato col cervello, questo qui, ciao ragazzi, sempre Forza Inter, Grazie.